I beni per un valore di 500 milioni di euro, riconducibili ad affiliati alla cosca di Drangheta di Annazzo di Lamezia Terme, sono stati sequestrati dal nucleo di polizia tributaria di Catanzaro, della Guardia di Finanza. Tra i beni sequestrati c'è anche il centro commerciale Due Mari, di proprietà dell'imprenditore Franco Perri. Il sequestro di beni è stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catanzaro su richiesta della DDA del capoluogo. I beni oggetto del provvedimento sono ubicati in varie zone della Calabria e consistono in una lunga serie di beni immobili ed immobili, società e titoli bancari. I particolari dell'operazione Nettuno, che ha portato al sequestro dei beni, è stata condotta dalla PM della DDA Eli Romano, sotto le direttive del procuratore della Repubblica Facente Funzioni, Giovanni Bombardieri. È un'aggressione patrimoniale importante ad una cosca importante, quella della cosca di Annazzo, che è operante nell'Ametino, e ci fa piacere vedere che l'ufficio GIP ha riconosciuto il valore e il rilievo delle nostre indagini, sia sotto il profilo personale, all'epoca con le misure cautelari in relazione all'attività investigativa svolta dalla squadra mobile, sia oggi con le misure patrimoniali sulla base dell'attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza. Ci fa particolare piacere verificare che si tratta di due valutazioni fatte da due giudici diversi, perché il giudice della cautela personale era diverso da quello del giudice della cautela patrimoniale, che hanno, diciamo, entrambi convalidato, tra virgolette, il lavoro investigativo svolto ottimamente dal collega Romano. L'importanza dei pentiti in questa operazione pare sia stata determinante. Sì, come spesso accade, il rilievo delle dichiarazioni dei collaboratori è sicuramente importante. È importante altresì che non ci si fermi però alle dichiarazioni dei collaboratori, ma si vada oltre, si vada a cercare quei riscontri che possano validare quelle dichiarazioni e possono offrire riscontro. Tenga conto che le dichiarazioni dei collaboratori vanno ben oltre quello che oggi emerge e quello che è emerso in passato, nel senso che spesso noi ci troviamo a dover archiviare delle vicende delittuose sui quali i collaboratori riferiscono, in assenza di riscontri esterni. Quindi noi non prendiamo per oro colato tutto quello che dice un collaboratore, ma lo valutiamo alla luce di quello che emerge investigativamente, dell'altro che nelle indagini ci risulta. Non sarà chiuso, né ci sarà alcuna interruzione della sua attività al centro commerciale Due Mari, uno dei beni sequestrati dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro. Secondo quanto è riferito la DDA, che ha chiesto ed ottenuto dal GIP l'emissione del provvedimento di sequestrati, è stato già predisposto a un pullo di professionisti, che curerà l'amministrazione del centro commerciale, che potrà proseguire così regolarmente la sua attività. Un importo impressionante, 500 milioni di euro sequestrati alla famiglia Perri. Sì, sicuramente è un importo di grande interesse. Tenga presente che, come ha detto lei, la famiglia Perri è responsabile e detiene tutta una serie di attività che nulla hanno a che fare con l'odierna attività e che non sono state lontanamente interessate dall'attività investigativa. Ma quelle su cui oggi ci siamo concentrati sono quelle che il dichiarato dei pentiti e le ulteriori indagini da noi svolte abbiamo avuto la possibilità di documentare come fossero quelle che venivano messe a disposizione della COSCA. Da questo punto di vista il sequestro è sicuramente ingente, anche perché attiene a beni ubicati sostanzialmente in quasi tutte le province calabresi, perché oltre che su Catanzaro il sequestro attiene beni ubicati sia in provincia di Cosenza, di Vibbo e di Reggio Calabria. Lei si riferisce alle attività commerciali e quindi stiamo parlando anche di lavoratori. Che cosa succederà adesso? Assolutamente, da questo punto di vista l'autorità giudiziaria è stata molto determinata a evitare che il decreto potesse in alcun modo creare problematiche a persone estranee al provvedimento stesso. Mi riferisco ovviamente ai lavoratori, per cui l'amministrazione giudiziaria che contestualmente al sequestro si sta insediando garantirà il proseguo delle attività imprenditoriali e sicuramente l'occupazione di tutta l'attuale forza lavoro presente presso questi soggetti economici. Con quanti mezzi e con quanti persone siete intervenuti stamattina? L'attività è stata piuttosto complicata, abbiamo dovuto impiegare circa 200 militari, 200 finanzieri, che ci sono stati messi ovviamente a disposizione anche dagli altri comandi provinciali della Regione, oltre che abbiamo avuto l'appoggio della sezione aerea dei nostri elicotteri che hanno stanza proprio alla mezza terme. Qualcuno stamattina è stato arrestato, è stato portato in carcere? No, oggi non vi sono misure di natura personale, ma torno a ripetere, solo le patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui in conferenza stampa si è lungamente parlato. Grazie a tutti.